Monitore e console La macchina CNC ha un display di 7.2 inch e una console multifunciona per impostare e vedere i dati. La console multifunciona è composta da un tasto alfanumerico con alcune funcione e le direzioni sulla righte del monitor Un pannello controllo sotto il monitor, un pannello di pannello situato al basso del sistema centrale Nella righte del pannello centrale c'è un knob usato per la regolazione di speed del accesso di macchina e un tasto di emergenza. Nella lefte c'è la chiave per installare la scrittura. Il tasto alfanumerico contiene Nella parte c'è i bottoni per inserire i codi e i numeri valori necessari per il programma. La parte centrale è riservata per la validazione dei dati e per le funcione per le diverse screen. Nella parte c'è alcuni bottoni per muovere il slide in la posizione desiderata per rilasciare la pagina in diversi modi di visualizzazione. E c'è il botone di help e di reset Il pannello centrale contiene una serie di botoni e alcuni signal leds. Nella parte c'è il botone di amore Nella parte c'è il botone per la scelta di moda che possono essere il moda di memoria, il moda di edit o il moda manuale. Nella parte c'è il botone di amore Le 8 bottoni alla right sono usate per muovere l'axe in un'altra direzione X, Y, Z Il botone con il numero 4 è per un altro axe che non è iniziato al momento. Nella parte c'è il botone di amore Nella parte c'è il botone di amore per fare una operazione semplice Blocca la rotazione del spindolo Activate e deactivate la lubrificazione Visualizzazione La scelta di posizione ha 3 modi diversi Il primo è per le coordinate absolute dell'axe del 0 che il lavoratore ha emissato nel programma Il secondo è per la posizione relative e il terzo è la scelta generale Per passare da un moda a un altro moda l'operatore può usare i botoni sotto la scelta chiamati software keys della voce relative che sta cercando Con la scelta generale Inoltre, puoi vedere tutte le coordinate Inoltre, puoi vedere tutte le coordinate Inoltre, puoi vedere tutte le coordinate La scelta della scelta del programma La scelta della scelta del programma mostra il parametro dei lavoratori in atto Inoltre, puoi inserire singole linee del programma che non restano nella memoria della macchina dopo il lavoro Questo moda è usato particolarmente per una semplica domanda o semplica operazione come il warm up o i modi di cambiamento Ci sono tre altre visualizzazioni Inoltre, puoi vedere la posizione Inoltre, puoi vedere tutte le modi o anomali sono riportate Offset setting usate per vedere la posizione e i nomi di tool montata Tool Anche la movimento del tool sul screen AXIS MOVEMENT AXIS MOVEMENT AXIS MOVEMENT AXIS MOVEMENT AXIS MOVEMENT map Il vertical X è nazionato Z e rappresenta il tool X E rappresenta il tool X E rappresenta il tool X È importante ricordare quando il lavoratore stia in atto la programma che il piatto è sempre considerato ancora X M8 move the piece on the left, X- on the right, Y+, move the piece near the operator, Y- far from him. The Z-axe is always the same in manual and programming mode, positive to the top, negative to the bottom. To move the axis in manual mode, you can use the jog button to a continuous movement, the step button to little movement. The speed of the movement in jog mode is regulated by the knob seen before. If the knob signs 200%, the worker will work in the max speed available on the machine. The step mode lets the tool move at a prefixed value, chosen with other buttons. For example, to have 1mm movement, use the 1K button. To have 0.1mm movement, use the 100 button and so on. Every time he seus catalang covid-19. This way people come to charge from the key scratch, 2mm Continue. It takes support from the terms of the bench. This side goes straight out with a closed tool and then he looks back to the edge. Notice the tip on the caricature of the gear. Grazie a tutti.